musica 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 e oggi siamo in un nuovissimo video di minecraftita lo so ancora devo portarvi la ctm con frapper 2505 ma purtroppo lui ha fatto il bastardo e se ne è andato a Firenze mi pare non mi ricordo e quindi nel frattempo che lui ritorna io continuerò minecraftita oppure farò qualcos'altro che sempre mi potete consigliare voi nei commenti allora quest'oggi io praticamente avevo deciso di fare ben due cose anzi partiamo dal principio innanzitutto da come potete vedere visto che sto iniziando a registrare dal computer nuovo ho ricreato un nuovo mondo e ho riportato tutte le cose che avevo nel mondo vecchio così come erano soltanto perché non ho voluto riportare tutti i file del vecchio mondo perché era tutto buggato e quindi non riuscivo a muovermi per bene e quindi l'ho rimodellato ho rimodellato soltanto alcune cose mentre tutte le cose standard che avevo fatto le ho tralasciate come vedete le due case l'orto non sta più vicino al castello di jadele ma l'ho spostato più di qua poi il pozzo eccolo lì poi ho rimodellato un po' il ponte così questa qui sarebbe la miniera la farm di mucca sta lì il pokestop lì da come potete vedere è lontano e poi quest'oggi vorrei andare in miniera per poi praticamente qui ho fatto un po' di spazio per metterci il portale il portale del nether per costruire qui invece non molto lontano dalla zona base diciamo un altro per gli incantesimi infatti possiamo già vedere un po' questa zona potrebbe essere perfetta si è perfetta così potremmo prendere appunto l'ossidiana ah poi qui alla fine questa stanza e sono andato alla ricerca di cane da zucchero eccetera eccetera per fare questa specie di scaffale e quindi l'ho fatta ho creato la mia stanza allora adesso mi servono questi venti di ferro per crearmi il secchio ok perfetto adesso li possiamo posare posiamo tutta la roba che non ci serve ok perfetto adesso possiamo andare a prendere l'ossidiana però per fare ciò io devo fare il piccone di diamante quindi mentre lo faccio lo gratto ok allora qui vediamo già una pozza di lava cioè non una pozza un po' di oddio un po' di lava qua porca puttana però a me serve proprio oddio qua perché c'è della luce ah ok qui abbiamo già dell'ossidiana che ci hanno regalato ok però bisogna un attimo tappare ehm quell'acqua altrimenti qui non ne ritorniamo più ok allora prendiamo il nostro piccone di diamante sperando che non ci sia lava qui sotto e ci vediamo dopo ok allora prendiamo quest'ultimo blocco perfetto tappiamo quest'altro po' e possiamo ehm ritornare sopra mettiamo un po' di torce sennò non vedete niente anzi non vedo niente anche io ok però adesso rimettiamo questo piccone ok perfetto vediamo un po' esploriamo un po' questa caverna qua ok allora qui c'è una bellissima pozzettina di lava ok la mia tattica ha funzionato allora saliamo ok e l'uscita era di qua per l'altro si è fatta pure notte e per non rischiare ecco questo non rischiare questo ok per non rischiare creeper e altre cose perché se mi fanno rispondere qualcosa appena ricostruita io spengo tutto e non caricherò mai più questo video ok ragazzi allora questa qui è la parte dove dovrò costruire il portale che ci porterà al famoso nether ok ragazzi ho costruito il bellissimo portale del nether si almeno inizia a vedere pure dove dove spawniamo se è una zona buona o se è una zona così e così se ci troviamo direttamente un una bella fortezza boom perfetto 3 2 1 let's go ok perfetto vediamo un po' già che non siamo spawnati in un buco già potrebbe essere buono però facciamo una cosa per non perdere il portale che poi dovremmo farci anche una base qui nel nether ehm facciamo una cosa ehm ci facciamo una strada ehm con delle torce tipo il tipo all'ansel e gretel così ehm non mi perdo per poi ritrovare il portale ok perfetto mh vediamo un po' uuuuuh quelle lì mi sembrano delle fortezze mi sembrano delle fortezze ah 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 però ragazzi allora facciamo una cosa e non è neanche tanto lontano dal portale bene ragazzi questo mondo che ho ricreato è perfetto ah tra l'altro qui abbiamo anche i blocchi nuovi se avete visto se avete visto non ne voglio gasto no allora se avete visto lì ci sono anche i blocchi nuovi dov'è il gasto che lo uccido dove sei? dove sei pezzo di merda vabbè ragazzi questo qui lo vediamo nel prossimo episodio spero che questo video vi sia piaciuto superiamo i 10 likes io nel frattempo ritorno al portale nel mio mondo comunque avete visto anche dove vorrei fare l'antro degli incantesimi e quindi ragazzi noi ci rivediamo ad un prossimo video bella ciao Grazie a tutti.